Via Libra da Bruxelles ai Paesi membri avversare anticipi più elevati di fondi della politica agricola comune denominata PAC ai produttori agricoli. Dal 16 ottobre gli agricoltori potranno ricevere fino al 70% dei loro pagamenti diretti in anticipo rispetto al 50% attuale, mentre i pagamenti anticipati per interventi basati sulla superficie e sugli animali del Fondo di Sviluppo rurale potranno essere aumentati fino all'85% anziché l'attuale 75%. La misura, ha spiegato un portavoce dell'esecutivo dell'Unione Europea, è pensata per andare incontro alle difficoltà degli agricoltori in termini di liquidità, in particolare a causa di eventi meteorologici estremi che hanno avuto un impatto sulle rese negli ultimi anni, nonché di alti tassi di interesse sui mercati finanziari europei e prezzi elevati di input e materie prime agricole.